Cornetti non venduti a disposizione dei passanti dall'una alle sei del mattino. È l'idea che arriva da un bar di Eboli che ha lanciato l'iniziativa del cosiddetto cornetto sospeso sulla scia della tradizione napoletana del caffè sospeso. I cornetti non venduti saranno posti sul tavolo alto davanti al bar tutte le notti. Li lasceremo lì ogni sera invece di buttarli nell'organico, affermano i titolari. Chiunque potrà prenderli.